Tante belle cose, auguri, arrivederci a presto, speriamo che ci vediamo. Giassfin, tanti auguri, stai sempre bene, ti raccomando Gianni, stai sempre bene. Voletevi bene come noi? E i soldi di Vincenzo erano falsi. Allora l'anno prossimo ti vogliamo qua Molfetta, terlizzi Molfetta l'anno prossimo. Perché dobbiamo fare cinque anni. La Madonna ti deve aiutare a farti venire. Il matrimonio. 50 anni, io sono Tida, faccio 50 anni di matrimonio a gennaio, 25 gennaio. Ristorante La Pineta. Ristorante La Pineta. Io sono Laura, non vi conosco e vi mando tanti saluti. Io sono Anucci, ma io... Geltano. Geltano. Salute Giovanni Giorpina. Sì. Guazzamacchia, Geltano. Dì, abbiamo passato belle giornate. No, 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 non posso compiere una cosa l'altra, compiere una cosa l'altra. Ma perché non è bello? In America perché se ne riesco come una cosa l'altra? In America non si riesco come una cosa l'altra. Ma perché è una cosa l'altra? E' un po' di vita. E' un po' di vita. E' un po' di vita contento? C'è anche la rima. si contento Gianni tuo figlio è oro è oro 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 tre giorni tre giorni tre giorni tre giorni sembra fare i conti stanno no vincenza vincenza hai somma no 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 bravo bravo Grazie.